Basta con i furti di acqua. Chi manomette i contatori sarà denunciato all'autorità giudiziaria. Pugno duro del CONSAC contro chi si allaccia abusivamente alla rete edrica. Una squadra speciale, scortata dai carabinieri, ha iniziato i controlli in tutti i comuni cui la società assicura l'erogazione dell'acqua. Nel mirino gli immobili ai quali era stato disattivato il servizio per morosità. Il blitz di mercoledì scorso ha portato ad individuare alcune utenze non autorizzate situate a Vallo della Lucania. I responsabili che hanno fruito del servizio, nonostante il distacco della linea, verranno denunciati. Il presidente Gennaro Maione è intransigente. Andremo avanti con maggiore energia per scoprire azioni fraudolente. Il nostro obiettivo, dice, è garantire la regolare fruizione del servizio e la parità di trattamento a tutti gli utenti. Non si contano più le cause penali che hanno portato utenti del CONSAC, diversi anche del Golfo di Policastro, davanti al tribunale per furto aggravato perché scoperti ad usare l'acqua attraverso allacce abusivi. Qualcuno è stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore di CONSAC e al pagamento delle spese processuali. Un numero elevato di procedimenti penali rispetto ai quali la società di Vallo della Lucania si è costituita parte civile. Gli accertamenti andranno avanti con l'utilizzo di squadre operative costituite per contrastare, insieme ai carabinieri, il fenomeno del prelievo abusivo di risorsa idrica. I furbi morosi sono avvisati o si mettono in regola con i pagamenti, sottolinea Maione, oppure verranno perseguitati penalmente come prevedono le norme in materia.